meno estrema possiamo dire questi scatti che sto dando sono anche perché mi sto gelando e io odio Max oggi e continuo a guardare loro e la temperatura va no ci sono pochi gradi per stare i bagni che corte sto aspettando un metà maggio per capire se effettivamente la user base di Oka stia ancora crescendo nel frattempo mi sto leggendo il libro How Brands Grow per capire quali sono le caratteristiche che portano un marchio come Oka o Neone ad essere il più amato o forse tra i più amati nel mercato italiano nei giorni scorsi ci è stato chiesto di fare un confronto tra due scarpe le Rincon 2 e le Mach 4 scarpe davvero molto amate dai podisti amatori italiani quali sono le differenze tra queste due scarpe come sapete non amo fare un confronto tra due scarpe di marchi diversi invece in questo caso guardando i siti di e-commerce troverete che le due scarpe sono abbastanza simili vediamo in che cosa si caratterizzano queste due scarpe come si differenziano chiedo ad Andrea di aiutarmi in questa valutazione l'unico commento che ci tengo a fare prima di vedere il video è che una delle caratteristiche principali da alcuni vituperata da altri comunque amata perché consente di ridurre il peso della scarpa stessa è quella relativa al battistrada sappiate che ho utilizzato per oltre 700 chilometri cercherò di portarle fino a mille le famose clifton edge per le quali il battistrada si consumava abbastanza rapidamente dopo 700 chilometri la suola è vero si è sicuramente consumata ma al tempo stesso l'efficienza podistica continua a essere equivalente rispetto a quella che quasi si aveva all'inizio della vita utile della scarpa solo dal punto di vista estetico questa scarpa però sembra ovviamente abbastanza consumata sebbene quando ci correte sopra non avrete nessun problema o almeno le vostre dinamiche di corsa non varieranno significativamente e soprattutto la stiffness che è il parametro che vi consente di determinare la capacità di spingere della scarpa stessa non varierà molto tra l'inizio dell'utilizzo e diciamo 600 700 chilometri lascio comunque la parola ad andrea tra l'altro reddice del personal best sui 5.0 14.07 tempo fantastico 250 e qualcosa a chilometro vediamo che cosa ci racconta ovviamente nonostante la temperatura si stia alzando io come al solito vado a bermi un coffee voi nel frattempo stay strong keep running e ci vediamo alla prossima buongiorno andrea la sensazione che la temperatura sia scesa qua parla di 11 5 gradi però però adesso facciamo una bellissima recensione in magliette maglietta con manica corta facciamo un piccolo confronto tra le rincon 2 le mac 4 che sono due tra le scarpe più veloci senza fibra di carbonio in casa oca ma anche in generale cosa ne pensi di queste due scarpe visto che le hai provate tutte due allora diciamo che hanno fatto due scarpe molto simili anche qui ma diverse e quello dico davvero perché mi ricordo che anzi mi ricordo se vai sul sito della oca a cercare la mac 4 la rincon 2 sembrano praticamente la stessa scarpa stessa ammortizzazione stesso peso date tutte e due per fare i medi eccetera eccetera quindi mi ricordo che i tempi tra rincon 1 e mac 2 non sapevo quale scegliere perché davvero erano identiche dici boh senza averle provate erano praticamente la stessa scarpa diciamo che provate invece qua c'è una ci sono delle differenze a livello di tomaia e di confort dell'avampiede cosa dici qual è secondo te la migliore allora mello chiesero in privato dicevo che erano praticamente uguali invece no secondo me rimane un pochino più spaziosa la mac 4 e quindi un pochino più comoda sicuramente meno meno soggetta a vesciche all'interno del piede questa nuova tomaia della mac 4 secondo me è fantastica che poi un po la stessa del os molto molto simile di quella delle carbon x 2 si diciamo che mac 4 sta carbon x 2 e la rincon sta alla rocket x diciamo come come vestibilità come come conformazione della scarpa e invece a livello di intersuola che poi un po la tecnologia che consente di farti correre velocemente cosa le dici allora ti dico che lì mi allora l'inter suola mi sembra mi sembrano diverse mi sembra più boh è strana quella della mac della mac sembra leggerissima e poca gomma mentre nella rincon sembra più dura e più e di più molta di più per assurdo sono alte quasi uguale invece la rincon sembra almeno due tre quattro centimetri più alta della della mac 4 la domanda che mi pongono che mi hanno post quali delle due più veloci non voglio comprare la scarpa con fibra di carbonio perché mi viene la fascite plantare e parliamo di persone comunque anche amatori esperti cosa ne dici dico che se mi viene la fascite usando le le scarpe con la fibra in carbonio perché le usate anche per fare il lente io le ho visti che ci fanno i lenti con le scarpe con la fibra di carbonio diciamo che sono da centellinare la differenza secondo me sostanziale tra la rincon e la mac 4 che la rincon l'avevamo già detto è una scarpa non per tutti cioè è una scarpa per chi corre di avampiede per chi spinge di avampiede mentre la mac 4 secondo me è una scarpa un pochino più popolare questo lo dico perché degli amici a cui avevo detto no compro la rincon che è una scarpa super mi hanno detto guarda mi affatica un po il polpaccio invece possono andare tranquilli sulla mac 4 che è una scarpa invece un pochino più meno estrema diciamo una scarpa che anche se corre un pochino più di tallone un pochino più di mesopiede va benissimo invece che corre più di avampiede che è più consigliata la rincon si è fondamentalmente pensata questo il marketing di hoca per chi corre tanti chilometri e quindi ha bisogno di una protezione superiore forse secondo me a livello di velocità la rincon 2 resta ancora un gradino sopra te l'ho detto a me la rincon piace tanto perché ti fa correre di avampiede ti fa spingere questa qua una scarpa un pochino meno estrema possiamo dire questi scatti che sto dando sono anche perché mi sto gelando e io odio max oggi e continua a guardare loro e la temperatura ma no ci sono pochi gradi per stare i bagnichi corte sì diciamo che è una scarpa un po più per tutti questa ma quattro è una due un'ottima due per tutti mentre la rincon è la migliore a2 secondo me sul mercato tra le migliori a2 sul mercato ma che non è per tutti invece a livello di tallone che sensazioni ti hanno dato le due scarpe una al tallone un po più tradizionale mentre l'altra un po più alla moda diciamo che quando corrino li senti praticamente mai cioè il tallone non ti appoggio ti appoggio un pochino di più della mac4 se parliamo invece dalla parte della tomaia sicuramente cento volte meglio questa qua della oca mac4 perché non porta vesciche sì noi noi almeno io credo che noi a milano le chiamiamo tutti fiacche invece fuori da milano le chiamano tutti vesciche e invece qua rischi che con un calzino un po un pochino più corto eccetera ti porti delle vesciche barra fiacche sul sul tendine d'achille che è successo anche correndo forte in pista o no perché io sono uno che arriva dal basket e rompe le scatole per le calze lunghe quindi anche le calze che uso per percorrere superano sempre il collarino della scarpa la cazzata lì l'ho fatta solo una volta con le pic si era le pic create mi sembra erano il calzettino lì la fine della calza della scarpa un pochino più dura e mi aveva distrutto tutta tutta la pelle l'intorno e da lì non mi sono ricordato che non lo devo più fare a livello di peso cosa dici sono sostanzialmente simile non c'è una grande differenza ma correndo che sensazioni ti danno guarda messa al piede la mac 4 sembra molto più leggera te l'ho detto non ti direi che secca sembra quasi vuota sembra che è un leggero che strano ma me l'aveva dato anche la mac 2 sicuramente al piede da fermo la rincone sembra molto più pesante poi invece quando corri invece sono delle scarpe tutte e due super leggere la a me la rincone piace tanto perché fa parte del piede quando devi spingere forte non la senti neanche non so se hai visto in casa un nuovo libro del del marketing che parla tra l'altro del del fatto che ci sia l'associazione con una particolare caratteristica e in questo caso mi riferisco al battistrada che sulle scarpe oca è molto minimal e molti hanno criticato questa scelta cosa ne dici e soprattutto confronto tra le due io sono uno di quelli che criticate fondamentalmente sembra che sulla rincone ci sia della gomma in più che poi si cancella perché praticamente si pialla via dopo 100 chilometri è già piallata via mi permetto di dire agli ingegneri di consiglio agli ingegneri di oca di mettere la il battistrada di gommadura quella nera diciamo su tutta la scarpa perché praticamente secondo me si consuma anche la parte nera più dura per colpa di questa parte dove non c'è quindi si si consuma tantissimo qua e dopo si scava via anche la parte po più dura quindi direi di fare un battistrada un pochino più coperto di gommadura mentre le mac 4 come le altre mac non si capisce il motivo le hanno fatti di questa di questa mescola molto morbida anche il battistrada che che già più al lato di suo quindi praticamente sia lì si alliscia dopo dopo niente e non capisco davvero questa scelta di non ha di non metterci degli inserti un pochino più duri ti dico alla fine si si piallano si si lisciano tutte e due molto velocemente in maniera diversa diciamo che le rincone dopo 100 chilometri dici sono già da buttare poi fondamentalmente le le utilizzi tranquillamente per per tutti i loro 600 700 chilometri stessa cosa per le mac 4 però davvero non si capisce non capisco davvero il motivo per cui facciano certo punto la faccia solamente liscia tanto dopo si si lisciava dopo 10 chilometri questa quindi e invece se dovessi decidere scegliere consigliare un range di utilizzo per le due scarpe cosa diresti in termini di peso del podistamatore se scarpe secondo me per atleti abbastanza leggeri se le devo utilizzare che peso più di 75 kg le devo utilizzare o per ripetute corte cioè corte per ripetute con poco volume quindi arrivare massimo a 8 10 chilometri di volume di ripetute quindi lavori con recuperi da fermo per intenderci al massimo fino al 3 per 3 mila forse le rincone le darei anche perché per chi pesa un pochino di più che sono un attimino più cicciose il range secondo me va sotto i 75 kg comunque non è il fattore differenziante tra tra le due scarpe il peso del podistamatore perché sono no no secondo me è proprio la differenza la fa il modo di appoggio se corro di avampiede devo devo buttarmi per forza sulle rinconche che mi daranno delle ottime soddisfazioni mentre se sono di una corsa un po più tallonata o di mesopiede devo andare sulla mac 4 che mi porta meno meno affaticamenti al polpaccio va bene grazie andrea ci vediamo alla prossima adesso ti faccio rivestire grazie ancora grazie a te ciao a tutti ciao iscriviti al canale